Il pomeriggio facciamo un po' di esercizi Mi sono stampato un po' di esercizi da internet Allora, prima domanda, semplice semplice Ho scritto scrivere in un altro modo la radice di a quadro Dove è a quadro? Dove è un numero reale Ora, uno può pensare, o almeno lo studente spesso pensa, di scrivere a Non è corretto, o almeno non lo è sempre La radice di a quadro è il valore assoluto di a Perché? Allora, supponete che a sia positivo Per esempio 3 al quadrato, qua no, la dita è minore, fa 3 Se però prendo per esempio meno 4 Meno 4 al quadrato fa 16 Io quando vado a fare la radice di 16 Prendo la radice aritmetica Cioè quella con la determinazione possibile Quindi farà 4 Quindi, vedete, se parto da 3 mi viene 3 Se parto da meno 4 mi viene 4 Il numero reale privato del segno si chiama valore assoluto Quindi questa è una prima cosa molto semplice Però vale la pena di essere sottolineata Perché poi capiterà spesso negli esercizi Ecco, un'altra cosa semplice Esercizio 1.5 Dati tra i numeri reali e arbitrali Provate che il valore assoluto della somma È minore o uguale della somma dei valori assoluti Cominciamo a dimostrare questa Questa non è difficile In realtà Qui vale anche l'uguale Però in una circostanza ben precisa Quando è che vale l'uguale in quella disuguaglianza? La disuguaglianza è vera se L'uguaglianza sarà vera Se i due numeri x e x sono a poco Cioè, facciamo un esempio Prendiamo 5 e 2 Fa 7 5 più 2 fa 7 Valore assoluto fa 7 Valore assoluto di 5 fa 5 Valore assoluto di 2 fa 2 Quindi viene sempre uguale a 7 Se anche fosse Meno 3 meno 4 Farebbe valore assoluto di meno 7 Che fa 7 E anche qua mi viene 3 più 4 Pari valore assoluto di meno 3 Più valore assoluto di meno 2 Quindi vedete se i numeri sono composti Effettivamente Quella è un'uguaglianza Se invece i numeri sono Di scogli Per esempio Che ne so Meno 5 Più 3 Allora qui Quando vado a fare La somma Mi viene meno 2 Poi con il valore assoluto Mi viene 2 E qui invece mi viene Valore assoluto di meno 5 Che è 5 Poi più il valore assoluto di 3 Che fa 20 E da a destra mi viene 8 Quindi Allora diciamo Facendo dei Casi molto semplici Se x e y Sono positivi Maggiori o uguali a 0 Il valore assoluto di x più y È uguale a x più y Il valore assoluto di x è uguale a x E quindi Lì ho un'uguaglianza Lì ho un'uguaglianza Perché questo qua x più y È uguale a x più y Perché andando a sostituire Più e due Se entrambi i numeri sono negativi Non positivi Allora il valore assoluto di x più y Viene Meno x Meno y E qui il valore assoluto di x Fa meno x Che il valore assoluto di y Fa meno y E quindi Diciamo Questa disuguaglianza qui Diventa Meno x più y Uguale Meno x Meno y E anche qui è un'uguaglianza Uno dice Ma come? Qua c'è il meno Sono negativi? No Perché x e y Sono negativi Quindi con meno davanti Diventano positivi L'altro caso invece È quello nel quale Siano discordi Per essere discordi Deve essere necessariamente Per esempio Uno positivo E l'altro negativo Non va bene Che uno dei due sia 0 Perché In quel caso Rientriamo in uno Dei due casi precedenti Allora se x è positivo E x è negativo E y è negativo Supponiamo Per esempio Allora qui facciamo Due casi Il valore assoluto Diciamo x Maggiore del valore assoluto di y Ok? Allora Il valore assoluto di x più y È uguale a x meno y Vedo delle facce strane Se non riuscite a ragionare con le lettere Mettete i numeri Esempio In questo caso Esempio X uguale 5 Y uguale meno 3 5 è maggiore Del Maggiore o anche maggiore uguale Ma non si va bene anche l'uguale Del valore assoluto di meno 3 Che fa 3 Il valore assoluto di 5 meno 3 Perché x più y fa 5 meno 3 Quanto fa? Fa 5 meno 3 Perché? Perché questo numero è positivo Quindi il valore assoluto Non devo cambiare sempre E fa 2 Dall'altra parte invece Io ho Questo è sicuramente Più piccolo Di x Più il valore assoluto di y Scusate x più y Poi ho sbagliato Y era negativo Ok? Perché è minore stretto? Perché y qua è negativo Invece qua c'è il valore assoluto Quindi questo qui è un contributo positivo Questo qui è un contributo negativo Quindi vedete i numeri sono discorti Quindi quando vado a fare il valore assoluto qui Quindi qui semplicemente prendo la somma Perché la somma era positiva Quindi non devo cambiare E invece qua Quindi qua sto aggiungendo y Cioè sto traendo qualcosa Perché y è negativo Qua sto aggiungendo il valore assoluto di y Quindi sto aggiungendo qualcosa Il valore assoluto di y è positivo Quindi qua ho la disuguaglianza Ovviamente se è al contrario Si scambia dei vuoli Ma il subordinario è sempre questo Quindi se x è più piccolo del valore assoluto di y Esempio x uguale 3 E y uguale meno 7 In questo caso il valore assoluto di x più y E' uguale a meno x meno y Perché? Perché questo numero è negativo E quindi il valore assoluto deve cambiare il segno Per esempio Qui abbiamo il valore assoluto di 3 meno 7 E' uguale a meno 3 più 7 Cioè 4 Mentre invece Dall'altra parte Questo è strettamente minore Di x Più il valore assoluto di y Il valore assoluto di y coincide con meno y Quindi questi due stavolta coincidono Stavolta questo è x E qua viene il consegno meno e negativo E qua invece il consegno è positivo Quindi qua 4 è minore di 3 più 7 Che fa 10 Vedete qua il 7 non cambia 6 E il 3 che cambia 6 Anche qui non ho fatto la disuguaglianza La riscrivo meglio qua sotto 5 meno 3 fa 2 Che è minore di 5 più 3 Che fa 8 Quindi come vedete qui Quando vado a fare questa somma Il 3 che cambia esempio Cioè la x Qui sta con più e qui sta con più Però in ogni caso Quando i numeri sono discordi E faccio prima la somma E poi il valore assoluto Uno dei due viene contato Col segno Meno Mentre dall'altra parte Vengono contati Tutti e due col segno Più E quindi Sicuramente Abbiamo Che questa disuguaglianza E vera sempre Questa qua si chiama Disuguaglianza triangolare Ok Andiamo Andiamo A Vedere sempre come conseguenza Della disuguaglianza triangolare Quest'altra disuguaglianza qui Allora Il valore assoluto Di valore assoluto di x Meno valore assoluto di y E' più piccolo del valore assoluto di y Allora Come funziona? Questa è un'altra disuguaglianza che vale sempre Questa qui è diciamo Una conseguenza diretta Della disuguaglianza triangolare Vediamo un po' se funziona Poi la dimostriamo Proviamo a mettere dei mu Prendiamo per esempio x uguale 7 E x uguale meno 3 A sinistra quanto viene? A sinistra viene valore assoluto di 7 Meno 3 Che sarebbe 7 meno Faccio tutti i passaggi Valore assoluto di meno 3 Quindi viene il valore assoluto di 7 Meno 3 Che viene 4 A destra invece Viene Il valore assoluto di 7 Meno meno Fa più 3 Che fa 10 Come vedete La disuguaglianza è più In altri casi Questa disuguaglianza Può anche questa essere un'uguaglianza Per esempio Se x è uguale a 5 E y è uguale a 2 Allora il valore assoluto di 5 meno 2 È uguale al valore assoluto di 5 meno 2 Fa sempre 3 Perché qua non cambia niente A sinistra devo fare il valore assoluto di 5 Il valore assoluto di 2 Viene 5 e 2 E poi devo fare la differenza E poi devo rifare il valore assoluto Adesso faccio direttamente la differenza E poi lo assoluto Però viene esattamente La stessa cosa Quindi non cambia niente Ora Perché vale Questa disuguaglianza Allora per dimostrarla Per dimostrarla Questa qua chiamiamola Disuguaglianza con due asterischi Allora Ripeto Chi è il valore assoluto di un numero? Questo è uguale a x Quando x è positivo E a meno x Se x è negativo Uno dice Molto spesso In matematica Si sta attenti a non duplicare la definizione Per esempio x uguale a 0 compare sia sopra che subito A me non dà fastidio A fatto che la definizione in quel caso coincida Cioè se prendete Se prendete 0 sopra Il valore assoluto di 0 fa 0 Se prendete 0 sopra il valore assoluto di 0 Sembra 0 fa 8 Meno 0 fa 8 Chiaro? Se però x vale 3 Dobbiamo usare quella di sopra E quindi il valore assoluto fa 3 Se x è uguale a meno 4 Dobbiamo usare quella di sopra E quindi il valore assoluto fa 4 Quindi per chi ancora non lo sapesse Il valore assoluto è il numero Consiste nel valore del numerico privato di segno Ok? Allora Come si fa A dimostrare Che il valore assoluto di x È minore o uguale di 3 Per esempio Se io voglio dimostrare questa disguaglianza Devo dimostrare che x È compreso tra 3 E meno 3 Perché? Questo vuol dire Che Diciamo X privato del segno Non deve superare 3 Ma ci sono i numeri che privati del segno Non superano 3 Quelli da 0 a 3 Ma anche quelli da meno 3 a 0 E basta Se ci fosse stata la disguaglianza stretta Però Per esempio X In valore assoluto Minore di 5 Allora avrei avuto Che Questo equivaleva Alle due diseguazioni X Maggiore di meno 5 E minore di 5 Quando scrivo così Queste sono due diseguazioni Volendo Potrei anche scriverle a sistema Potrei scrivere X Minore di 5 E al sistema X maggiore di meno 5 Però è più facile Scrivere in questo tema Siamo fino a qui Non è complicato Adesso veniamo Alla doppia asterisca Allora Cosa devo dimostrare? Devo Dimostrare Che x meno y È più piccolo Del valore assoluto di x meno y E che x meno x più y È più piccolo Perché Perché devo dimostrare Queste due? Allora vedete Questo di sinistra È l'argomento Di questo valore assoluto Questo argomento Può essere Positivo o negativo Allora Se fosse Mettiamo che sia negativo Allora se è negativo È ovvio Che è più piccolo di questo Perché quello di destra È un numero Positivo Non negativo Questo di sotto Chi è rispetto a quello di sopra? È l'opposto Quindi Se era negativo L'opposto sarà positivo E sarà il suo valore assoluto Quindi Se questa differenza è negativa Questa è uguale al valore assoluto E il valore assoluto È più piccolo E quindi La disuguaglianza funziona Se viceversa Questa differenza è positiva Allora È lei Che è uguale al valore assoluto Ed è questa La disuguaglianza Che è uguale a questa Mentre l'altra È banale Perché L'opposto Di numero positivo Sarà negativo Quindi Devo dimostrare Queste due La prima Cancello qui E quindi Vi ricavo un po' di spazio La qui La prima E qui pare a dire Vi ricordate Le Diciamo Le regole Del Fatto che R è un corpo Coordinato Che cosa significava Significava che Se io aggiungo La stessa quantità A una diseguazione La diseguazione Non cambia Quindi Questa diseguazione Equivale a dire Che il valore assoluto Di x È Minore o uguale Del valore assoluto Di x Nel y Più Il valore assoluto Di y Ok E questa Sarà vera Sì Perché A sinistra Io posso scrivere Così Di x Menore o uguale Del valore assoluto Di x Meni y Più Y Di valore assoluto Cioè Allora Questa Equivale a questa Perché Ho preso Questo pezzo E l'ho portato Dall'altra parte Si può fare Cioè Portare Dall'altra parte Significa Aggiungere A tambo i membri In valore assoluto Di y Qua scompare E qua compare Così Quindi qua compare Così Poi A sinistra Ho aggiunto Il sottratto y Prima di fare Il valore assoluto Quindi è chiaro Che aggiungere Il sottratto Alla stessa quantità Non cambia nulla Adesso Cosa riconosco Riconosco Questa disuguaglianza Qui Perché qui Ho due addendi Chiamateli A E B E questo È il valore Assoluto di A E questo È il valore Assoluto di B Allora Qua c'è scritto Che il valore Assoluto Della somma È più piccolo Che la somma Dei valori assoluti Quindi questa qua E questa Allora Se è vera Questa È vera Questa È vera Anche Chiaro? Andiamo A vedere L'altra L'altra Equivale A dire Stavolta Che il valore Assoluto Di y È Minore o uguale Del valore Assoluto Di x Meni y Più Il valore Assoluto Di x Ma Anche qui Equivale a dire Che il valore Assoluto Di y Meno x Più x È Minore o uguale Del valore Assoluto Di y Meno x Più Il valore Assoluto Di x Allora Qui ho fatto Solo un passaggio Di y Più in piu Lo schermo Lo schermo è lo stesso Ho preso Meno valore Assoluto di x L'ho portato Dall'altra parte E ho scritto La diseguaglianza In questo modo Devo verificare Che è vera Allora Per verificare Che è vera Qui Aggiungo Ma a E l'opposto di a Hanno lo stesso Valore Assoluto Cioè Io qua Dentro di valore Assoluto Posso cambiare Segno Perché non cambia Nuno Il valore Assoluto Di 7 Fa 7 E il valore Assoluto Di meno 7 Fa 7 E' chiaro Quindi Ho dimostrato Questa è vera Questa pure è vera Sono vere tutte e due Quindi questa qua E' vera Quindi queste due Le evidenzio Perché le evidenzio Perché questa qui Sarà vera Anche quando faremo Useremo Per esempio I numeri complessi E useremo Le norme Oppure useremo Le norme Dei vettori Cioè Possiamo Sempre dire Allora Come si enuncia Questa qui Il valore Assoluto Della somma E' Minore o uguale Alla somma Di valore assoluto Quando faremo Le norme Per i numeri Complessi Anche lì La norma Della somma Sarà Minore o uguale Della somma Sarà Una disuguaglianza Classica Che userete Molte volte Viceversa Il valore Assoluto Della differenza E' Maggiore o uguale Della differenza Della differenza Della assoluta Anzi E' Maggiore o uguale Della differenza Della assoluta Però Di primo acchito Potete anche dire E' maggiore o uguale Della valore Differenza Cioè Il valore assoluto Della somma E' compreso Tra La differenza Della valore assoluta E la somma Della valore assoluta E' minore Della somma Della valore assoluta E' maggiore Della valore Differenza Perché poi è chiaro Che se è maggiore Della differenza Questa Vale anche al contrario Perché x e y Sono simmetrici Quindi è maggiore o uguale Di valore assoluto Di x Meno valore assoluto Di y Di valore assoluto Di y Meno valore assoluto Di x Quindi è maggiore o uguale Del valore assoluto Della differenza Della valore assoluta Però dire che È maggiore o uguale Il valore assoluto Della differenza Della valore assoluta E' un po' più Fa perdere un po' Di vista L'obiettivo Basta ricordare Per ricostruire Le queste disuguaglianze Basta ricordare Il fatto Che il valore assoluto Di una somma E' in genere Più piccolo Della somma Della valore assoluta E' più grande Della valore assoluta Ok Va bene Queste sono disuguaglianze Che useremo sempre Spesso Molto spesso Andiamo a vedere adesso Qualche altra Disuguaglianza Però stavolta Facciamo Studiamo Qualche diseguazione Ad esempio Ad esempio Facciamo questa qui Facciamo questa Che è interessante X più 1 Fratto X quadro Meno di 2 Minore di 1 Ok Ok Allora Possiamo farla In vari modi Proviamo a farla In due modi diversi Allora Portiamo questa a prione Questa è una diseguazione Valgono le regole Della diseguazione Per cui Io posso portare Tutto da una parte X più 1 fratto X quadro Meno di 2 Questo deve essere Meno 1 su X Deve essere Meno di 2 Quindi Quindi Posso scrivere X più 1 Allora Sotto faccio Un comune Utilo E qua mi viene Meno X quadro Più Il tutto deve essere Meno di 2 Sì A questo punto Qua faccio la somma La somma viene 3 Più X Meno Mi sono Per supportare Ah sì X quadro più X Mi sono Dimenticato Quindi La somma Non fa questa Ma fa X Ok 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 Intanto qua lo facciamo anche in un altro modo Allora In realtà qua possiamo anche semplificare qualcosa Però attenzione Perché questo qua Quindi io ho in realtà scritto X più 2 Fratto X più 2 No non posso semplificare Perché quella è X più radica al 2 Non posso semplificare Va bene così La riscrivo semplicemente Stavo pensando che L'esercizio ci volesse Traire in inganno Invece no Allora Devo fare questa Questa divisione Devo vedere Quando è Che questa frazione È negativa Allora posso fare Come al solito Con lo studio dei segni Allora quindi qua ho 0 Allora ho il numeratore Che è negativo Fino a X X uguale a meno 2 Poi vale 0 E poi è così Questo è il segno del numeratore Oh Adesso Il denominatore Ha due fattori Li chiamiamo DF1 E DF2 Un fattore X Che è facile È negativo Fino a 0 E poi è positivo E l'altro è X quadro meno 2 Oppure questo è facile Questo è Fino Diciamo Per intervalli Nell'intervallo delle radici Cioè per X compresso Tra meno radical 2 Radical 2 È negativo Poi a radical 2 Radical 2 vale 0 E poi è positivo Adesso io cosa devo fare Devo fare Il numeratore Fratto il denominatore Ma il denominatore È il prodotto di questi due fattori Quindi Cosa posso dire Allora Fino a meno radical 2 Il denominatore è negativo Perché è il prodotto Di un numero positivo Per un numero negativo Fino a meno 2 Scusate Il numeratore è pure negativo Quindi l'apporto è positivo Siccome a me serve Dove Dove La frazione è negativa Non va bene E quindi Questi numeri Li scartiamo Invece In meno 2 Il numeratore vale 0 Il denominatore no E quindi Il rapporto si può fare Ma vale 0 0 non va bene Perché Voglio che la frazione Sia negativa Invece tra Meno 2 E meno radical 2 Le cose vanno bene Perché il denominatore è negativo Il numeratore è positivo Quindi ho x compreso Tra meno 2 E meno radical 2 Sono alcuni punti Che sono soluzioni Di questa disequazione Poi Tra meno radical 2 Non va bene Perché il denominatore Si ha 0 E quindi La divisione Non si può fare Perché ho un numeratore Diverso da 0 Fratto 0 Tra meno radical 2 E 0 Non va bene Perché il numeratore è positivo Io dico il denominatore invece pure Quindi più fratto più Fa più E quindi Gli altri punti Che vanno bene Sono quelli Tra 0 E radical 2 Tra 0 e radical 2 Il numeratore è positivo E il denominatore è negativo Oltre radical 2 È tutto positivo E qui A radical 2 Si annulla come al solito Il denominatore Quindi Il rapporto non si può Quindi Insieme Delle soluzioni Dovrebbe essere Meno 2 Meno radical 2 Unito a 0 Radical 2 Ok Questo è Una possibilità Un modo di farlo Può essere che abbiamo Fatto bene Può essere che abbiamo Sbagliato qua Ma dovremmo aver fatto Voglio vedere un modo Di farlo un po' più rapido Voglio vedere un po' Un modo di farlo Un po' più rapido In questo modo Di farlo un po' più rapido Io ragiono in un modo Completamente diverso Allora Come Ragiono Mi posso anche tenere La disequazione Così com'è Me la vado a studiare Così com'è Non faccio Nessun cambiamento Però Prima cosa Mi vado a segnare Dove I due Allora Questa è la lettera reale Mi vado a segnare Dove I due membri Perdono significato Allora Questo qua Perde significato Quando si annulla Il denominatore Ma il denominatore X4 E' 2 Vuol dire X uguale a Più o meno Radical 2 Radical 2 Meno Radical 2 Disegno questi due punti Invece L'altro Perde significato A 0 Vabbè Uno stava segnato Con unità di misura Togliamo Ok Quindi Nel punto 0 Perde significato Questo Nel punto Più o meno Radical 2 Perde significato In mezzo Adesso Vado a studiare L'equazione Cioè Invece di studiare La disequazione Io Mi vado a studiare X più uno Fratto X quadro Meno Due Uguale Uno Su X Adesso Tolgo I denominatori Suppongo Che Entrambi I denominatori Siano diversi Da 0 Perciò Mi sono segnato Quei punti a parte E moltiplicando Viene X quadro Più X Uguale X quadro Meno 2 Quindi Semplificando Mi viene la soluzione X uguale Meno 2 Cioè A meno 2 Meno 2 Starà Più o meno 4 Segniamo Allora Questi qua Li segno Con una X Perché Perchè Perde Significato Uno Dei Due Membri Questo Di qua Invece Lo segno Con un pallino Per dire Dove c'è il pallino I due Membri Erano Uguali Ok Adesso Se andiamo A prendere Ciascuna Delle zone Della retta Allora Questi 4 punti Suddividono La mia retta In 5 Zone C'è questa Semiretta Poi c'è Questo intervallo Poi c'è Quest'altro intervallo Quest'altro intervallo E quest'altra Semiretta Ok Allora io dico Che in ognuno Di questi intervalli Poi lo dimostrerò A suo tempo O vale Una disuguaglianza O vale L'altra disuguaglianza Cioè non possono Valere Nella stessa zona Può cambiare Cioè questo membro Rispetto a questo O è sempre più grande O è sempre più piccolo Non può essere che Prima era più grande E poi a un certo punto Diventa più piccolo Perché se prima Per esempio In alcuni punti Di questa zona Fosse più grande In altri Fosse più piccolo Allora ci dovrebbe stare Qualche punto Dove sono uguali Ma non è vero Il punto dove sono uguali Sono questi Oppure ci dovrebbe stare Qualche punto Dove uno dei due Per il significato E non è vero Neanche Allora quindi Andiamo a prendere Per esempio Se io ci metto Meno 3 Qua siamo a meno 2 Se io ci metto Meno 3 Oppure meno 10 Quanto mi viene? Qua mi viene Meno 10 più 1 Fa meno 9 10 Meno 10 al quadrato Facendo 98 Meno 9 su 98 È un numero negativo Ma molto piccolo Però Però No mi conviene mettere Meno 3 Perché è più evidente Allora se metto Meno 3 Qua viene Meno 2 Settile Dall'altra parte Viene Meno 1 terzo Chi è più grande? Meno 1 terzo O Meno 2 settimi Meno 2 settimi Per quale motivo? Meno 2 Togliamoci i segni 2 settimi E 1 terzo 2 per 3 fa 6 Questo è più piccolo di questo Quindi con meno davanti Questo è maggiore di questo Quindi vuol dire Che su questa zona qua Il membro di sinistra È più grande Di quello di destra E quindi Non va bene Quindi questa zona qua Non va bene Non sta Nelle mie soluzioni Adesso Se prendo un numero Tra Meno 2 E meno radica al 2 Cosa ci posso mettere? Meno radica al 2 È meno 1,4 Mettiamo per esempio Meno 1,5 Meno 3,5 Se ci metto Meno 3,5 A sinistra mi fa Meno 1,5 Al numeratore Al denominatore fa 9,4 Meno 2 fa 1,4 A destra fa Meno 2,3 Ok? Il reciproco di meno 3,5 È vera? Allora Questo Si porta al numeratore Fa meno 4,5 Fa meno 2 La disuguaglianza è Quindi Questa zona qua La devo prendere Questa qua la devo prendere Che vedete Corrisponde esattamente Ai numeri compresi Tra meno 2 E meno radica al 2 In meno 2 Se ci metto Meno 2 Qua mi viene Meno 1,5 Meno 1,5 È uguale Non va bene Non lo prendo Quindi meno 2 Non lo prendo Perché qua C'è l'uguale Infatti Vedete Sto Quando avevo studiato L'uguaglianza L'uguaglianza Si aveva per x È uguale a meno 1 Meno radica al 2 Neanche lo prendo Perché uno dei due Cioè il membro di sinistra Perde Significa Significa Tra meno radica al 2 E 0 Provo a metterci Meno 1 Se ci metto Meno 1 Qua mi viene 0 Qua mi viene un numero negativo La disuguaglianza Non è vera Quindi questa zona Questa la devo togliere Tra 0 e radica al 2 Ci metto per esempio 1 Se ci metto 1 Qua mi viene 2 Fratto Meno 1 Viene un numero Negativo Qua mi viene positivo La disuguaglianza è vera Quindi questa zona Qui la devo Prendere Invece Se prendo un numero Maggiore di radica al 2 Per esempio 2 Qua mi viene 3 Mezzi E qua mi viene Un mezzo La disuguaglianza Non è vera E quindi Quest'altra zona Non la devo prendere Se andate a vedere Ho ottenuto esattamente Lo stesso risultato Cioè La mia disuguaglianza È vera Quando la mia X È compresa Tra meno 2 E meno radica al 2 Oppure Quando è compresa Tra 0 Ora ci sono casi In cui In questo caso Non abbiamo guadagnato Un gran che Perché comunque Abbiamo dovuto fare Una discussione Un po' lunga Anche in questo caso Abbiamo però guadagnato Se ci avete fatto caso Qui La nostra equazione Era più facile Da studiare Tanto è vero Che nella diseguazione Un attimo Mi avevo distratto Stavo sbagliando Invece qui Abbiamo subito Tolti i denominatori Abbiamo subito Trovato la soluzione X uguale a 2 Dopodiché Bisogna fare la discussione Zona per zona Per capire Quale zona prendere E quale zona no Gli estremi Se vanno presi Non vanno presi Dipende Dalla diseguazione Se c'è il maggiore Minore Minore L'uguale Se ci sta l'uguale Oppure no E dipende dal fatto Se l'uguale Per il gigante Siccome qua C'era il minore Stretto In ogni caso Gli estremi Non andavano presi Quindi Effettivamente Abbiamo sicuramente Un altro vantaggio È dovuto al fatto Di non dover fare La moltiplicazione Di segni Qua spesso e volentieri Quando fate questi diagrammi Ci sono varie Convenzioni Io ho usato La convenzione Semplicemente Per studiare Il segno di una funzione Indicando con la linea Continua Il segno positivo Con la linea Tratteggiata Il segno negativo A volte si usano Con la stessa Con una convenzione simile Con la linea Continua La zona da prendere Con la linea Tratteggiata La zona da non prendere Quando Una certa Diseguazione Quindi Si può fare Confusione Quella convenzione Non la userò mai Userò solo Sempre solo La convenzione Per i segni Però Qui i segni Non erano tutti Al numeratore C'era questo Che era al numeratore E questi Che erano al denominatore Quindi bisognava fare Produciamo questo Fratto Questo Che Che come regola Disegni va bene O fa il prodotto O fa il rapporto E' uguale Però Per capire Quando la frazione Perde significato E' diverso Perché Quando lo zero Al denominatore La frazione Non si può fare Quando lo zero Al numeratore La frazione Qui invece Lo svantaggio Consisteva nel fatto Che una volta Stabilite le zone Bisognava prendere Un punto Per ogni zona E verificare Se la disequazione Era soddisfatta In quel punto Una volta Che la disequazione E' soddisfatta In quel punto E' soddisfatta In tutta l'altra Se no No O tutta sì O tutta no Però per farlo Non serve Verificarlo In tutti i punti Basta Azzurro In 3-4 casi Su 5 Era facile Nel caso Quando ci ho dovuto Mettere Meno 3 Qua era un po' Più difficile Mi ci stava a mettere Meno 10 Però Era vero Funzionava anche lì Ma era meno Evidente Ok Andiamo a fare Un'altra disequazione In maniera simile Vediamo Se questo metodo Che abbiamo Introdotto È fluttuoso Oppure no Andiamo a fare Quest'altra disequazione Ok La disequazione È questa qui Radice quadrata Di x quadro Meno x Meno valore Assurdo di x Maggiore o uguale Di x Meno 4 Mezzi Ok Dobbiamo studiare Allora come vedete Stavolta Portate al primo membro Mi aiuto o non mi aiuto Allora io direi Proviamo Allora Andiamo Proviamo con il secondo metodo Che è Meno Allora Per fare il secondo metodo Però Stavolta Dobbiamo andare a vedere Dove Allora Questo Non perde significato mai Ok Questo invece Può perdere significato Quando è che perde significato? Quando il radicando È negativo Quindi io vado trovando La disequazione x quadro Meno x Meno valore assoluto di x Maggiore o uguale di 0 Mi interessa questo Devo risolvere questo Perché se questo Non è maggiore o uguale di 0 Quella scrittura lì Non ha Alcun senso Perché sotto radice Ci sta un numero negativo Ci siamo fino a qui Allora Devo prima Per poter studiare Questa disequazione È meglio prima Risolvere questo Ma anche questa Ma la posso studiare Con lo stesso metodo Perché io posso dire x quadro Meno x Maggiore o uguale Del valore assoluto di x Adesso Vediamo un po' Io la voglio studiare così Voglio studiare l'equazione x quadro meno x Allora questa qua Non perde significato mai x quadro meno x È uguale Al valore assoluto di x Ma questo valore assoluto di x Può essere Più x E può essere Meno x Adesso anche qui Uno dovrebbe dire Questo è più x Se x è positivo E meno x Se x è negativo Però se io sbaglio A usare Questa equazione Cioè Mettere questo Quando non lo devo mettere O mettere questo Quando non lo devo mettere Cosa posso fare? Posso Si dice Introdurre delle soluzioni scurie Quante volte Alla superiore Vi è capitato Di introdurre le soluzioni scurie Cioè Avete fatto Un quadrato Avete fatto Delle altre operazioni Avete trovato Le soluzioni Però alcune di queste Bisognava scattare Allora Io semplicemente Non voglio perdere tempo Quindi voglio andare a studiare X quadro meno x Uguale x Quindi viene X quadro Uguale 2x X quadro uguale 2x Se e solo se O x uguale a 0 O x uguale a 2 Se invece vado a studiare L'altra X quadro meno x Uguale meno x Questa corrisponde A x quadro uguale a 0 Che corrisponde Alla soluzione x uguale a 0 Quindi a me vengono Due soluzioni O x uguale a 0 O x uguale a 2 Andiamo a vedere Se ci metto 0 Funziona 0 meno 0 meno 0 Fa 0 Se ci metto 2 Pure funziona Perché 4 meno 2 Meno 2 Fa 0 Quindi queste due Sono soluzioni Quindi Che vuol dire Che in 0 E in 2 Questa quantità Vale 0 Andiamo a vedere Se ci metto Adesso quindi Questi due punti In nessun punto La quantità perde significato A me interessa Dove questa quantità È positiva Maggiore o uguale a 0 Questi due punti vanno bene Però di queste tre zone Non so quale devo prendere Allora cosa devo fare Lo stesso discorso di prima Per esempio Ci metto meno 1 Se ci metto meno 1 Qua mi viene Meno 1 al quadrato fa 1 Meno meno 1 Fa più 1 Che fa 2 Meno Farò assoluto di meno 1 Che fa 1 Quindi 2 meno 1 Fa 1 E così Quindi questa zona La devo prendere La devo prendere Mi lazzare in più Se ci metto 1 Qua mi viene 1 Meno 1 Meno 1 È negativo E non lo devo prendere Se ci metto 3 Allora qua mi viene 9 Meno 3 Meno 3 Che fa 6 Adesso in modo Positivo Quindi da 2 in po' Questa zona la devo prendere Quindi questa qui È soddisfatta Se è solo se X è minore o uguale a 0 Oppure X è maggiore o uguale a 0 Oppure se volete scriverlo Come insieme X appartiene A meno infinito 0 Unito 2 Infinito Ma questa È solo La disuguaglianza Che riguarda Questo radicando Cioè mi dice Soltanto Se il radicando Del membro di sinistra Della disuguaglianza Che invece voglio studiare Si può fare Oppure no Quindi io so Che Tra 0 e 2 In questa zona qui So che il membro di sinistra Perde Significa Adesso andiamo a vedere Questa Uguaglianza Studiamola come uguaglianza Quindi scriviamo Radice Di X quadro Meno X Meno valore assoluto di X Uguale a X Meno 4 mezzi Anche qui Facciamo il quadrato Però ci ricordiamo Che quando noi facciamo Un quadrato Potrebbe succedere Intruttura Delle soluzioni scuri Però non ci interessa Noi le soluzioni Alla fine Le andremo Controllate Quindi Se facciamo il quadrato Qui ci viene X quadro Meno x Meno valore assoluto di X Uguale X quadro Più 16 Meno 8X Fratto 4 Quindi viene 4X quadro Meno 4X Meno 4 valore assoluto di X 4X quadro Meno 8X Più 16 Cancello Cancello qui Adesso Qua ho 3X quadro Più 4X Meno 4 valore assoluto di X Meno 16 Uguale a 0 Anche qui 4 valore assoluto di X Può essere uguale a 4X O a meno 4X Cioè questo qui Può essere uguale a X O a meno X Quindi Se questo è uguale a X Qua mi viene 3X quadro Meno 16 Uguale a 0 Quindi viene X uguale Più o meno 4 Su radica al 3 Nell'altro caso Mi viene 3X quadro Meno 8X Meno 16 Uguale a 0 Allora X Se ho fatto bene i conti Viene 4 Meno più La radice Di 16 più 48 Che fa 64 Fratto 3 Quindi viene 4 meno 8 Fa meno 4 terzi 4 più 8 Fa 12 terzi Fa 4 Siamo fatto bene i conti Adesso controlliamo Ho applicato la ridotta no? 4 In 4 quarti Meno AC E poi fratto A Invece che fratto Allora andiamo a vedere Se ci metto 4 Qua mi viene 16 Meno 4 Meno 4 Meno 4 Viene radice di 8 Qua invece mi viene 0 E non sono uguali E non sono uguali Perché non sono uguali Perché in quel caso 4 è positivo E questo non è uguale a meno X Ah qua ho sbagliato Ah qua ho sbagliato E qua era Meno 4 Qua era più 8X Quindi qua Era Meno 4 Quindi Tiene meno 4 E più 4 terzi Allora andiamo a vedere Quindi mettiamoci Meno 4 16 più 4 meno 4 fa 16 Radice di 16 fa 4 Da quest'altra parte Mi viene Meno 4 Meno 4 Fratto 2 Che fa Meno 4 Questa soluzione Strugge Soluzione Meno 4 Non va bene Perché Questa qua Qua mi viene 4 Qua mi viene meno 4 Questa qua L'ho introdotta Quando ho fatto il quadrato Avevo un segno diverso Quando ho fatto il quadrato Sono diventato 4 Andiamo a vedere 4 terzi 4 terzi Se X è uguale a 4 terzi Qua mi viene Radice quadrata Di 16 noni Meno 8 terzi 4 terzi Stanno Le 0 e 2 Comunque questo qua Perdi significato Perché è negativo 8 terzi Stanno Poi andiamo a vedere 4 Più o meno 4 su radica 3 4 su radica 3 Radica 3 Minore di 2 Allora un 4 su radica 3 Dovrebbe stare Da questa parte Un po' più di 2 E Meno 4 su radica 3 È stata Quest'altra parte Andiamo a vedere Cominciamo a metterci 4 su radica 3 Allora x uguale Allora x uguale A 4 su radica 3 Allora qua mi viene Radice di 16 terzi 16 terzi Meno 8 Sul radica 3 Questo dovrebbe essere Uguale A 4 su radica 3 Meno 4 Diviso 2 Fatemi Ricopiare Questo In un'altra parte Allora Come vedete Questo numero È positivo Questo numero È negativo E non possono Essere uguali Quindi questa È un'altra Soluzione Quella con più 4 Su radica 3 Che va scattata Andiamo a vedere Quella con meno Meno 4 Su radica 3 Stavolta Qua mi viene La radice Scusate Qua non è la 16 terzi Era la 16 noni No, era 16 terzi No, era giusto Stavolta Pure 16 terzi Sì Ok Poi 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 qua viene Meno Più 4 Su radica 3 Meno 4 Su radica 3 Quindi questo qua Se ne va Dall'altra parte Viene 4 Per 1 Meno 1 Su radica 3 Meno 1 Meno 1 Su radica 3 Fratto 2 Perché è Meno 4 Su radica 3 Allora Proviamo A fare Il quadrato Però mi sa tanto Che Qua Ho sbagliato qualcosa Ok Allora Vediamo un po' 6 6 Nega però dovrebbe essere allora vediamo un po' x meno 4 x meno 4 fratto 2 a me non riesco a trovare le due però ho sbagliato la o ho sbagliato la verifica adesso facciamo pausa e così individuo le sue non riesco a trovare le sue non riesco a trovare le sue un po' Grazie.